mentalmente, mette il pallone in calcio d'angolo, attenzione ancora alla Roma in avanti Brighi, può infilarsi, gol! Che gol ha inventato! Grandissimo gol di Menès e questi sono i colpi di Jeremy Menès che ha trovato un gol fantastico lui sedia solo in questa maniera straordinario, destro, sinistro da una parte e dall'altra, incredibile incredibile, due passi, controllo stafilata di sinistro, incrocio, perfetto qui si vede benissimo mamma mia, dove ha messo il pallone Jeremy Menès e siamo 1-1 quando calcia un giocatore è perfetto Alessandro lo sapete quando lo capisci?